e la paella hanno messo una nuova adesso sono indecisa tra questa e questa a parte che questa qua hanno colori diversi a fine video vi faccio vedere qual è che ho scelto invece questa è nuova appena arrivata in questo video vi faccio vedere tutte le cose nuove e guarderemo anche la parte outlet cosa c'è per la gente se vi piace questo video lasciatevi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità questa porta candela la trovo molto carina che belle le piante io adoro le piante c'è una passione pazzesca ma non so cosa scegliere comunque a fine video farò vedere cosa ho scelto che bella idea che bella idea bellissima idea guarda pomodori vicino alle casse c'è la zona outlet dove c'è di tutto tavoli, sedie, materassi oggetti per la cucina tappeti, c'è di tutto cuscini, scatole c'è di tutto di più infatti io la maggior parte delle cose che ho comprato per casa l'avevo presa da qua se vi interessa posso farvi vedere gli oggetti che ho comprato all'IKEA a metà prezzo e se vi interessa lasciate un commento a metà prezzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla fine ho scelto queste ceste neutre perché le altre ho l'impressione che perderanno il colore. Cosa ne dite? Vi piace la mia scelta o dovevo prendere le altre? Se no le vernicio alla fine dei conti. Comunque mi piacciono anche se sono due tonalità diverse. Invece ho preso questa pianta. Vi piace come l'ho messa?